Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui per i pronostici sulla 22esima giornata di Serie A siamo già alla 22esima, è una settimana un po' particolare, la Coppa Italia ha oggettivamente regalato delle sorprese l'eliminazione delle prime 4 della classe, insomma ha fatto delle prime 3 della classe, solo il Milan è passato più è uscita anche la Roma, la Lazio è passata fatica, l'Inter è uscita, il Napoli è uscito, la Juve che è una 24 di fila è uscita ci rituffiamo in Serie A e dunque cominciamo domani alle 15 aprirà la Serie A Empoli-Chievo, allora questa è una partita particolare perché è l'ultima spiaggia a mio avviso per il Chievo l'Empoli è l'ultima squadra in questo momento salva, quindi la partita con l'Empoli per il Chievo diventa veramente uno spartiacque davvero importante, dovesse vincere la lotta salvezza per i Clivensi cambia totalmente e secondo me il Chievo porterà a casa il risultato, due Chievo, mi fido di loro alle 18 Napoli-Sandoria, il Napoli chiamato a una vittoria dopo il pareggio col Milan in campionato la sconfitta col Milan che ha portato via un altro titolo ai partenopei la partita con Sandoria assume veramente un aspetto davvero importante credo però che sarà molto difficile, non mi stupirei di un pareggio però la vittoria del Napoli non si può dare per non scontata, insomma nel senso non si può non mettere quindi giocherei l'1x, attenzione perché questa Samp è veramente in forma non credo che signora Quagliarella, penso che il suo record si infrangerà purtroppo perché ci spero per lui, ma credo che la partita comunque il Napoli alla fine se la giocherà ma non sarà così scontato, quindi l'1x secondo me è il risultato più adatto sempre domani chiude il sabato Juventus-Parma e la Juve deve vincere perché deve reagire dall'eliminazione della Coppa che ci stava dopo anni, dopo contro una squadra che è in forma smaliante Parma sta bene, il Parma in trasferta è ostico ma la Juve deve vincere senza se senza ma, quindi 1-2 domenica alle 12.30 Spal-Torino credo che il Torino vinca spero di sbagliarmi perché la Spal mi sta particolarmente simpatica e spero che ottenga la salvezza prima possibile ma il Torino credo che alla fine sia più forte e se gioca da toro credo che non ci siano storie Udinese-Fiorentina do la vittoria alla Fiorentina anche perché la partita di Coppa Italia credo che abbia dato il morale alle stelle, ai viola Genoa-Sassuolo se non Sassuolo allora Sassuolo domenica ha vinto e secondo me qua viene fuori un pareggio con gol quindi X gol Inter-Bologna domenica alle 18 ragazzi cioè l'Inter è uscito dalla Coppa non vince da due partite credo che col Bologna vinca cioè non voglio pensare che l'Inter non vinga col Bologna in caso contrario se dovesse l'Inter perdere col Bologna o non vincere col Bologna credo che l'Inter rischerebbe seriamente tutto cioè anche la Champions perché oggettivamente e quindi credo che alla fine l'Inter viga quindi uno domenica alle 20.30 credo che sia il match clou della giornata che è Roma-Milan la Roma si gioca tutto nel senso che la batosta contro la Fiorentina non è passata inosservata come è giusto che sia il Milan invece è sulle aree dell'entusiasmo dopo aver battuto il Napoli a San Siro è una partita per la Roma fondamentale nella Roma si gioca tutto non lo so secondo me vincerà la Roma non so perché ma credo che la Roma darà tutto e porterà a casa il risultato quindi metterei sicuramente l'uno il derby del Lazio lunedì alle 19 Frosinone-Lazio mettiamo una Lazio di Vinc anche perché sarà sulle aree dell'entusiasmo Frosinone oggettivamente è troppa poca cosa lunedì alle 21 invece chiuderà la giornata Cagliari-Atalanta e l'Atalanta è talmente in forma il Cagliari però è un'ottima squadra secondo me l'Atalanta non vince secondo me l'Atalanta non vince a Cagliari quindi 1x 1x perché secondo me l'Atalanta a Cagliari ci lascia i punti ragazzi chiudo qua questi pronostici a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video ciao